The stars lean down to kiss you and I lie awake and miss you, pour me a heavy dose of atmosphere There's all those off safe and soundly, but I'll miss you Daniele Isetti, presente quest'oggi alle Strade Bianche di Romagna, un antipasto di quello che è un grandito ritorno nel calendario Under 23, il Giro d'Italia Under 23 Assolutamente, la presenza del Consiglio federale non poteva mancare per questa iniziativa che vediamo assolutamente con grandissimo favore è una gara che si preannuncia veramente molto interessante, poi insomma come è anticipato l'anteprima per il prossimo Giro Under che stiamo aspettando con grandissimo entusiasmo, tutto il movimento è veramente galvanizzato per questo graditissimo ritorno per cui insomma viva la categoria degli Under 23 So please don't let me die, cause I I look up at the sky again, because I miss my friend and I know that when The stars lean down to kiss you and I lie awake and miss you, pour me a heavy dose of atmosphere Nicolo Asnesi, gara importante quest'oggi, le Strade Bianche come andranno interpretate? Sono difficili ma sicuramente ci sarà da stare davanti sin dalle prime battute Ma quello sicuramente appena c'è entrato di sterrato l'importante, credo anche fondamentale sia lo stare nelle prime 20 posizioni Come hai detto bene, è la prima edizione, gara da interpretare è un po' difficoltosa, vedremo un po' quello che succederà in corsa Federico, l'inizio di stagione è positivo, adesso si cerca quest'oggi il risultato pieno Sì, diciamo che quest'anno è partita un po' così così, si cercava la vittoria subito Sono arrivati due terzi posti, abbiamo accolti lo stesso benissimo e adesso cerchiamo di vincere, dai speriamo Prima edizione delle Strade Bianche di Romagna, organizzazione a cura della nuova ciclistica Placi 2013 Le autorità sono già schierate per dare il via che avviene in questo momento Proprio assieme a Marco Selleri che è il presidente della società organizzatrice Ci sono anche Stefano Golini, sindaco di Mordano, Daniele Esetti, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana E dalla via era presente anche la direzione di corsa con Raffaele Babini Questa è quindi la partenza della corsa, in programma un tracciato unico di spettacolare bellezza Con numerosi tratti di strade bianche che andranno a caratterizzare questo spettacolare tracciato E quindi in vista poi degli ultimi chilometri abbiamo anche una asperità la salita Che assegnerà il Gran Premio della Montagna a circa 30 chilometri dalla conclusione Una totale di 131 chilometri da percorrere quest'oggi Nello scenario che gli atleti andranno a vedere a breve e che come vedete si inizia già a pedalare molto forte Perché ci stiamo avvicinando al primo tratto di strada bianca di quest'oggi Quindi ci avviciniamo al primo dei 17 tratti di strada bianca Uno totale di 21 chilometri e 300 metri per quanto riguarda i tratti sterrati Vedete proprio come ci si lotta nelle prime posizioni per tenere ovviamente i compagni di squadra davanti Per cercare quindi di approcciare queste prime fasi in testa E noi adesso abbiamo già affrontato alcuni tratti di strade bianche E vedete come il gruppo si è notevolmente allungato Proprio in questa fase vediamo un gruppo in lunghissima fila indiana A testimonianza e ce lo conferma anche la media della prima ora di un'andatura velocissima Infatti dopo la prima ora il gruppo aveva percorso quasi 44 chilometri Davvero una grande velocità sin dalle prime battute Qui siamo al chilometro 50 di gara Vedete le maglie della Viris, quelle della Gatsprong, Rusvelo Under 23 nelle prime posizioni del gruppo Sono queste le formazioni che stanno cercando di tenere alta l'andatura In queste fasi centrali di Corsa Ed il gruppo viaggia in lunghissima fila indiana Queste sono le immagini che aspettavamo Questo è lo spettacolo delle strade bianche Questo è lo spettacolo di quel mondo che è balzato alla rivalza Con la cicloturistica l'eroica che poi nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare In tutti i settori dal cicloturismo fino al professionismo Con tappe del Giro d'Italia Con la manifestazione professionistica strade bianche Che si conclude proprio in piazza del campo Poi insomma tutto nato da quella folla idea di riscoprire il vecchio sapore del ciclismo Riscoprire i vecchi valori che animavano questo sport Ma noi quest'oggi siamo in gara Ed allora questo è il tentativo di fuga che ha animato buona parte della corsa Davanti abbiamo Alessandro Corvi e Nicolas Della Valle Attenzione ad Alessandro Corvi che è un giovane forte del team Kolpak Così come Della Valle Poi abbiamo Matteo Moschetti della Viris Maserati Davide Italiani della Maltinti Roman Kustadincev della Gaxprond Emanuele Onesti e Gabriele Giannelli del team Opla Giovanni Guglielmi della Cipollini Iseo E Mario Meris della Gallina Colosio Questi sono gli uomini al comando Mentre questo è il gruppo che insegue con un ritardo di circa 30 secondi Un tentativo interessante questo Che presenta le migliori formazioni rappresentate Vedremo se il gruppo reagirà subito Se andrà a chiudere questo svantaggio Perché dicevamo davanti ci sono atleti di indubbio valore Abbiamo già ammirato Alessandro Corvi lo scorso anno Nella categoria Juniores Far molto bene in questa categoria Conosciamo bene Gabriele Giannelli Anche lui molto forte nella categoria Juniores C'è davanti anche Emanuele Onesti Atleta del team Opla Petroli Firenze Ma noi torniamo in attesta E' proprio Kustadincev della Gaspong Che sta facendo l'andatura in questo frangente E qui con la nostra moto andiamo a seguire proprio il tratto Uno dei tratti di strade bianche In cui possiamo anche capire meglio La difficoltà che hanno i corridori in questo frangente Le difficoltà ma anche le variabilità che sono richieste Per quanto riguarda questo tipologia di tracciato Ovviamente non si può che tornare con la mente Alle immagini della Parigi Roubaix Ma il tracciato in questo caso è ben diverso Intanto attenzione Foratura per Davide Italiani della Martinti Dicevo Una La similitudine Dal punto di vista estetico Con le strade della Parigi Roubaix Ma le sensazioni Le pedalate Ma anche le abilità richieste Quest'oggi sono ben diverse Le strade bianche come vedete Sono ben battute Si riesce a fare Anche una velocità molto sostenuta E' importante quindi Avere dote nel guidare la bicicletta Specialmente in uscita dai tratti di strade bianche In cui si incontra l'asfalto E magari un po' di detriti sul tracciato Intanto vedete che alle spalle Degli uomini alla comando Gli atleti della Gazprom Stanno facendo una buona guardia Probabilmente hanno fiducia In Roman Kustavincev L'atleta della formazione russa Che si trova nel drappello Dei nove uomini alla comando In quanto adesso Il vantaggio è salito Sopra al minuto prima Vediamo anche Gli atleti della Coppi Alto Pack E salutiamo anche Vedete Antonio Bevilacqua Assieme al Presidente del team Colpack Con Leoni Che sta seguendo la corza Quest'oggi C'è davvero da divertirsi Nel seguire Lo spettacolo delle strade bianche Che ritornano nella categoria Under 23 Dopo qualche anno di assenza Erano state portate in passato Con l'eroica Under 23 E poi anche con il Giro d'Italia Il Giro Bio Giro d'Italia Che quest'anno torna Grazie proprio Alla nuova ciclistica Placci 2013 Che allestirà La corza tappe Riservata Alle categorie Under 23 Proprio nel mese di giugno Un gradito ritorno Quello del Giro d'Italia Riservato ai più giovani Ma intanto Siamo adesso Con le immagini Nella salita Nella salita che caratterizza La parte Finale di corsa Una salita Davvero interessante Una salita che Presenta pendenze notevoli E anche un attratto di sterrato Vedete Gli atleti che stanno affrontando Queste prime pedalate Un attratto di sterrato Che porterà gli atleti Al Gran Premio della Montagna Di Monte del Re A Dozza Siamo a poco più di 30 km Dalla conclusione Qui vediamo Alessandro Covi Vi ho già parlato di lui Ma proprio Prima dell'ingresso Nella tratto di sterrato Allunga Questo atleta qua Che vedete Inquadrato Roman Kustadincev Gagsborne Rusvelo Under 23 E' lui che In questo tratto Che invece Presenta si pendenze E presenta anche Un affondo sterrato Riesce A fare Una bella differenza Vedete Come riesca A pedalare Composto Nonostante La difficoltà Del tracciato Alle sue spalle Per il momento C'è il vuoto Attenzione quindi All'azione di Kustadincev Che adesso Sta affrontando Le ultime rampe Questa volta In asfalto Prima del passaggio Alla Gran Premio Della Montagna Dalla quale Mancheranno 30 km Alla conclusione Davvero bella L'azione Del corridore Della Gagsprong Rusvelo E' lui Che adesso Spinge con decisione A 50 metri Dal passaggio Al Gran Premio Della Montagna Si alza sui pedali In questa fase Un vantaggio Di poco Superiore A 30 secondi Un margine Che però E' salito Negli ultimi Kilometri Il gruppo Degli inseguitori A 200 metri Dal passaggio E nel gruppetto Degli inseguitori Si è giunto anche L'abbiamo visto In seconda Posizione Matteo Sobrero Altro giovane Interessante Del team Kolpak Noi nel frattempo Vediamo che si è giunto Anche un altro atleta Della Gagsprong Che ovviamente Farà da guardia All'azione Di Kustadincev Si tratta di Cercasov Nikolai Cercasov Della Gagsprong L'atleta caratterizzato Dalla dorsale Di gara Numero 49 Anche il gruppo Degli inseguitori Transita Al Gran Premio Della montagna 25 secondi Di ritardo Per loro Più indietro Il grosso del gruppo A 47 secondi Dagli uomini Alla comando Gruppo che adesso Prova a reagire Perché davanti La situazione Si sta Delineando Abbastanza chiara C'è un atleta Solitario Alla comando Si tratta di Roman Kustadincev Se n'è andato Nel tratto In salita Verso il Gran Premio Della montagna Dopo aver Pedalato in fuga Per tanti chilometri Con altri 8 atleti Erano in totale 9 all'inizio Poi la foratura Di Davide Italiani Ha messo Fuori gioco L'atleta Della Maltinti E sono quindi Rimasti in 8 Alla comando Fino al momento Dell'attacco Da parte Di Kustadincev Che adesso Sta guidando La cursa Queste invece Sono le retrovie Del gruppo Che adesso Accusa un ritardo Di poco Superiore Ai 45 secondi Quindi Una situazione Che è ancora Variabile Dal punto di vista Tattico Ma davanti Guardate con che spinta Sta procedendo Roman Kustadincev Davvero Possente La pedalata Del corridore russo Della Gazprom Rusvelo Under 23 35 secondi Il vantaggio Nei confronti Dei più immediati Inseguitori Quindi Ci crede A questo punto Kustadincev Che sta per Approcciare L'ultimo tratto Di strada esterrata Ormai siamo Nelle battute Conclusive Lui che Ormai è in fuga Dalle prime Fasi Della corsa Così come Coloro che Stanno inseguendo Mentre il gruppo Adesso è segnalato A 50 secondi Dalla testa Della corsa Quindi una situazione Che ancora Può cambiare Un finale Che comunque Per il momento Sorride Al corridore Della Gazprom Rusvelo Colnago Under 23 Che sta continuando A spingere Con una forza E con una potenza Importante Vedete Mani basse Sul manubrio La faccia sporca Dalla polvere Delle strade bianche Che quest'oggi Stanno regalando Uno spettacolo Unico Di grande ciclismo E vedete Che alle sue spalle Fa buona guardia Nicolai Cerkasov Dorsale di gara Numero 49 Lui che fa parte Di questo trappello Assieme a Covi Della Valle Moschetti Picò E con loro È presente anche Parovan Runzas Onesti E Giannelli Questi sono Gli uomini Che fanno parte Del trappello Dei più immediati Inseguitori Del battistrada Battistrada Che comunque Sta spingendo Molto forte Mentre il gruppo È segnalato Sì in rimonta Ma è ancora A Circa 40 secondi Dalla testa Della corsa Quindi siamo Sì a 20 km Dalla conclusione Ma davanti C'è un atleta Scatenato E vedete come Nonostante I cambi Siano regolari In testa Maglie della Maltinti Maglie della Team Colpa Custadincev Adesso si sta Apprestando Ad entrare Nell'ultimo tratto Di strade bianche Dove è previsto Anche un traguardo Volante Non avrà problemi A vincerlo Questo traguardo Volante Ma lui è ben Più interessato Invece A conquistare Il traguardo Finale E la sua situazione Adesso Nei confronti Dei più immediati Inseguitori È ancora Molto Volubile In quanto Il suo vantaggio Non sale Ma non cala Neanche È praticamente Stabile Attorno Ai 35 Secondi Nei confronti Dei più immediati Inseguitori Poco più di 50 secondi Nei confronti Del gruppo Quindi Kustarincev Sta davvero Regalando Grandi emozioni Un acronometro Da solo Contro tutti Se riuscisse A portare a termine Quest'azione Avrebbe percorso In solitaria Oltre 30 km Adesso La sua pedalata Si fa un po' più pesante In questo frangente Alleggerisce un po' Con il rapporto C'è da stare attenti In queste fasi Perché Sì Un rapporto più leggero Può facilitare La pedalata Ma poi c'è il rischio Che la bici Faccia troppi movimenti E quindi non si ha Poi la pedalata Così efficace Intanto dietro Si è un po' Ricomposta La situazione Vedete il gruppo Che adesso è più numeroso Ha praticamente raggiunto I controattaccanti E viaggia A 40 secondi Dal corridore Solitario Alla comando Quindi Non è semplice Andare a prendere Questo treno Della Gaspong Roosevelt Under 23 Lo vediamo inquadrato Ancora una volta Ed è ancora una volta Lui in testa Ormai all'ultimo chilometro Il suo vantaggio è sceso Adesso È di 20 secondi Nei confronti del gruppo Ma lui è ancora in testa Lui è ancora Lì davanti Perché vuole Cogliere il successo Vuole andare a riscrivere Il proprio nome Nel nuovo Albo d'oro Della strada Strade bianche di Romagna Ci troviamo a Mordano E stiamo ormai entrando Nel centro abitato Ancora solo al comando Questo ragazzo Vedete come il gruppo Adesso Faccia Capolino In fondo a questo rettilineo Ma lui è ancora in testa Lui è ancora lì davanti E ormai sta per Entrare nel rettilineo Conclusivo Tranno molto Entreranno in funzione Le telecamere fisse Per Andare ad applaudire Il successo A questo punto Lo possiamo dire La cavalcata solitaria Di Roman Custadincena Ancora Un margine di vantaggio Sufficiente Nei confronti Dei più immediati Inseguitori Il gruppo ha reagito Ma troppo tardi Lo vedete in fondo A questo rettilineo Roman Custadincen Gasprong Rusvelo Alza le braccia al cielo Vince Le strade bianche Di Romagna La volata Per la seconda Posizione E appannaggio Di Matteo Moschetti Della Viris Maserati Terzo è Federico Sartor Della team Colpac Quindi Francesco Messieri Della team Opla Petroli Firenze Alessandro Fedeli Della Colpac Davide Italiani Della Maltinti Alessandro Covi Del team Colpac Onesti Dello Pla Petroli Firenze Cristofaletti Della General Store Bottoli Zardini E chiude In decima posizione Nicolas Dalla Valle Della Valle Del team Colpac La bella vittoria Di Roman Custadincev Che consegna Così Alla propria formazione Alla Gasprong Rusvelo La vittoria Ed il successo Nelle strade bianche Di Romagna Roman Una corsa All'attacco Dal primo All'ultimo chilometro Nel finale Hai dato tutto Te stesso Ma una vittoria Importante oggi Sì Questa vittoria È molto importante Per me Perché Questa Prima gara Nostra Così E Nostra squadra Vuole andare Dopo Giro d'Italia Under 23 Perché Questa vincere È molto importante Per noi Gli ultimi chilometri Una cronometro Sì Ultimi 30 chilometri Andate da solo E anche Oggi Non tornare a gara Molto Difficile Evento Marco Selleri Un anno di pausa Per tornare a grandi livelli Per tornare con una gara inedita E poi l'appuntamento Il grande appuntamento Nel mese di giugno Con il Giro d'Italia Under 23 Il 2017 È iniziato sotto i migliori auspici Spero di sì Adesso Ovvio che Devo andare a riunione Con la direzione gara E la giuria Per capire se È andato tutto bene Lungo il percorso Credo di sì È stata entusiasmante La gara Perché è stata combattuta Fino Agli ultimi 500 metri Quando probabilmente Il gruppo Sentiva Sentiva L'odore Del fuggitivo Poi Meglio per lui Che ha vinto Questa prima edizione Di una gara Che sognavo da tempo Ma comunque Ha un po' di sapore Del mio amico Giancarlo Brocci Perché è stato lui L'inventore Diciamo Quello che ha dato il via Le strade bianche In Italia Niente Per il resto Parliamo Quello che accadrà dopo Questo è stato un po' Il nostro banco di prova Per mettere A punto Un pochino L'organizzazione Per il mese di giugno Quando Avremo il Giro d'Italia Under 23 Ecco perché Probabilmente C'è stata questa pausa Di un anno e mezzo Circa Dal giro Le pesche Nettarine Per mettere a punto A punto Tutto quanto Quello che serve Per cercare di fare Le cose al meglio Questa prima edizione Le strade bianche In Romagna Credo che abbia dato Dei buoni consigli Le strade bianche Le strade bianche Per mettere a 순 Per mettere a punto Di una notte En Giro d'Italia Per mettere a punto Con il mese di���ю In Eko Per mettere a punto Per mettere a punto Per mettere a punto E in Romagna Grazie per la visione